Lo Spirito Santo insegna, ci ricorda, ci fa parlare con Dio nella preghiera. Nell'Omelia di Pentecoste, nella Basilica di San Pietro, davanti a una grande folla di pellegrini e fedeli, Papa Francesco ha ribadito che lo Spirito è un maestro di vita, è la memoria vivente della Chiesa, perché un cristiano senza memoria è prigioniero del momento, non sa fare tesoro della sua storia, non sa leggerla e viverla come storia di salvezza. Infine, ha insistito il Papa, lo Spirito ci fa parlare con gli uomini nel dialogo fraterno, ci aiuta a parlare con gli altri, riconoscendo il loro dei fratelli e delle sorelle, a parlare con amicizia, con tenerezza, comprendendo le angosce, le speranze, le tristezze e le gioie degli altri.